In collaborazione con Buon pomeriggio, eccoci nuovamente in diretta, ancora per un anno, siamo pronti, siete pronti? Siamo nuovamente in diretta con lo sportello Pensioni, salutiamo i nostri ospiti Come cominciamo la prima puntata in diretta, la prima di una lunga serie? Io bisogna cominciare piano Cominciavo piano, ma non vi vedo ancora motivati Si comincia piano piano perché le risorse devono... Bisogna centellinarle Anche perché l'estate non ci ha dato modo di entusiasmarci Ecco, è troppo caldo, cosa avete avuto? Ah, intanto presento chi è in studio oggi, mi ero dimenticata Ennio Toniuti, FNP Cisle di Udine Giancarlo Tabacco, FNP Cisle, Alto e Medio, Friuli, entrambi segretari Allora, come avete passato? Non è stata calda come temperatura, ma piatta per il resto Piatta, piatta Abbiamo inseguito solo alcune cose così che... Quindi non avete ottenuto niente? Oddio Niente di nuovo sotto il sole? No, abbiamo evitato crociera, abbiamo evitato barca, abbiamo evitato sbarca, abbiamo evitato quella roba lì perché altre cose non c'erano Allora, mentre voi eravate tranquillamente o al sole, al mare, a monti, in collina, dove eravate? Al fresco Al fresco Sono comunque arrivati dei messaggini mentre c'erano le repliche della trasmissione Purtroppo i problemi restano I problemi restano, i problemi non vanno in vacanza Allora, a questo punto io vorrei ricordare ai nostri amici telespettatori che se vogliono possono telefonarci Vedete il numero in sovrimpressione 0432 573517 Oppure inviare sms o whatsapp al 393 186 1551 E comunque, dicevamo, i messaggini che sono arrivati durante l'estate non li abbiamo buttati da parte Li abbiamo qua Non possiamo riprendere... Da dove ci eravamo lasciati? Ma diciamo dal lavoro che era rimasto in sospeso Dal lavoro che era rimasto in sospeso è un lavoro alto Quindi le contrattazioni con il governo, la definizione delle materie Che negli ultimi anni erano state messe sul tavolo E alcune in via di svolgimento, altre risolte, altre in via di approfondimento Perché per noi non è che queste materie o queste cose siano cancellate Fanno parte dell'incontro ufficiale Tra l'altro, ricordava prima Giancarlo, c'è un articolo di legge che dice che quelle commissioni Devono continuare i lavori per produrre dei risultati Una legge di stabilità del 2018 È la famosa fase 2 dell'accordo 2016 che doveva completare la prima parte di interventi Le idee della Cisle, alcune domande al governo Le avete già sottoposte, le avete presentate Quali di queste sono lì in attesa di risposta? Ma diciamo che queste domande sono appunto la seconda parte La seconda parte, sì Quindi riguardano argomenti già comparsi anche nei programmi elettorali Seppur in maniere diverse o in maniere letterariamente diverse ma di contenuto Quindi la flessibilità dell'età pensionabile Un'altra cosa importante che forse è sfuggita o non si ritrova molto nei programmi di governo E' quella distinzione fra lavori, lavori pesanti o lavori meno pesanti Gravosi e usuranti Gravosi e usuranti Quindi anche lì un occhio di attenzione a facilitare o non facilitare A sostenere o non sostenere la pensione anticipata eccetera O poi la pensione contributiva anche per i giovani Ecco la pensione contributiva, quella di garanzia Che è la famosa idea che era nata E dire siccome è lavoro frastagliato Lavoro più o meno qualificato per un lungo tempo Prima di avere accesso al lavoro pieno Portano in fondo a una situazione contributiva complessa E quindi anche una pensione molto bassa E quindi istituire già da subito una terza gamba Al sistema previdenziale per assicurare comunque una pensione decente Poi c'è l'altro pallino del sindacato Che è quello del lavoro di cura Il riconoscimento del lavoro di cura in famiglia Che troppo spesso è bistrattato Però è anche il primo punto In cui la famiglia si sostituisce Alla collettività, allo Stato, al sociale Possiamo un attimo, no? Poi riprendiamo magari anche con questa polemica Con queste attese del sindacato Giuste attese del sindacato C'è un'attesa principale La perequazione automatica delle pensioni A primo gennaio del 2019 Quello era previsto, statuito E quindi immaginiamo Non si sa Immaginiamo che sia mantenuto questo impegno Sentiamo chi c'è al telefono Pronto? Buon pomeriggio Con chi parliamo? Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio Con chi parliamo? Parlo con Giuseppe Daudine Sì, prego Buonasera Buonasera Volevo un'informazione Mia moglie ha la minima pensione Ma ha anche una pensione del Nasarco Per avere la quattordicesima È necessario fare domanda O è automatica? Allora Sì, la quattordicesima Possiamo rispondere allora Che la quattordicesima Dovrebbe È per la maggior parte Ma comunque dovrebbe essere Automatica Naturalmente ci sono i limiti di reddito Quindi ribadiamo Che il limite di reddito Tenendo conto di ambe due le pensioni Non deve superare Le mille No Mille Mille euro al mese L'ordine dei mille euro Mille 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 Di lordo A sia Della minima Che lei dice minima così È più sommato Quella delle Nasarco E quindi Bisogna capire Se rientra Al di sotto Dei mille euro Al mese Poi bisogna vedere Se ha compiuto già gli anni Sua moglie Di lordo o Nese Lordo 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 Mille euro lordo E allora Lo supera Sicuramente Ecco Quindi Dopo naturalmente Grazie a lei Buonasera Grazie a lei Per aver chiamato Grazie Buonasera Sì No Ma il problema Lì dell'ordo Imbroglia Eh infatti Perché non è la prima volta Che ci arrivano richieste No? In questo In questo senso C'è sempre la questione Non distincio A proposito Ecco Di quattordicesima Dovrei Probabilmente Fare una rettifica Nel senso Che In una trasmissione Di fine giugno O primi di luglio Una signora Ci ha chiamato Chiedendo informazione Sulla quattordicesima Essendo titolare Di assegno sociale O pensione sociale Ecco Io In quel giorno Probabilmente Ho sbagliato Di dare la risposta In quanto In quanto La quattordicesima Essendo Un beneficio Legato Ai contributi Versati Chi è titolare Di assegno Di assegno sociale O pensione sociale Non ha diritto In quanto Dette prestazioni O pensioni Non sono legate Non sono Non derivano Da contributi versati Quindi Non hai sbagliato Perché il tuo pensiero È quello Perché secondo te Ci siamo detto Tante volte La quattordicesima Dovrebbe essere A prescindere Dovrebbe avere Un aspetto sociale Sì Però Il mio pensiero È diverso Perché nasce Per un'altra motivazione Siccome i limiti E le clausole Sono legate Ai contributi versati Ai 15 anni Ai 25 E anche agli importi In base Naturalmente All'età È logico Però il sentire comune Lo vede Come un intervento Sul reddito È vero Il sentire Tra virgolette Tecnico nostro Con cui sappiamo Perché è nato E come è nato Cioè questa è nata Per un primo momento Di perequazione Delle pensioni Da nato E quindi doveva essere Esclusivamente Legato ai contributi C'è stata un'estensione Poi Su richiesta del governo Governo Prodi Ministro del Lavoro Ferrero Che ha voluto Estendere anche Alle altre condizioni Però era nata Solo per un recupero Di potere d'acquisto Dalle pensioni Da contributo E quindi Ha questa caratteristica Da mantenere Questo qua Comunque Ha fatto la rettifica Adesso A scanso di equivoce Adesso tabacco Si sente più tranquillo No perché La prima cosa Bisogna che rettifichi E beh certo Perché si creano Falsiaspettative Ma no E fa piacere sbagliare Perché possiamo Che riconoscerlo E beh certo Non fa piacere Sbagliare Capita Capita Però non è che Faccia di Tornando Alle idee Della CIS Ecco Io ho già Un po' di tempo Che mi chiedo Appunto Se queste Benedette Provedimenti Articoli Leggi Perché Di fatto Le commissioni Dovevano essere Sono state istituite Con la legge di stabilità Del dicembre scorso Quindi All'articolo 1 Del comma 155 158 Dove Era stabilito Che dove Venivano istituite Queste commissioni Che dovevano In pratica Per 155 Vedere Esaminare Quelli che sono E ampliare Per quanto possibile La platea Dei lavori Usuranti O gravosi L'altra commissione Doveva essere Quella Che Si doveva Esaminare Verificare Contare Diciamo così Quelli che sono I costi Della previdenza Dovevano essere Istituiti Dovrebbero essere Stati istituiti E dovevano Il loro lavoro Doveva scadere Adesso Il 30 settembre Adesso Io Tra l'altro Dovevano anche Mettere a fuoco Il nuovo paniere Su cui Calcolare Le per equazioni Non andavamo Da Tra l'altro Dobbiamo anche dire Che Nell'accordo Governo Sindacati Del settembre 2016 Del settembre 2016 C'era appunto Questo benedetto Ripristino Della per equazione Automatica Secondo la legge Vecchia Diciamo Senza tanti Limiti Diciamo così Col nuovo governo Visto che qua Non si senta parlare Niente Voci sulla nuova Ma vuol dire Che allora È tutto fermo Che è a posto Così Se c'era una scadenza Se c'era una scadenza Del 30 settembre Doveva Deve Dovrebbe Essere Aspettiamo Che arrivi No Questa scadenza Del 30 settembre Ma non credo Che in un mese Siamo al 29 agosto Appunto Quindi Momento di pazienza Avremo modo Di verificare Andiamo un attimo In pausa Ci vediamo Qui in studio Tra qualche istante Rimanete con noi Eccoci nuovamente In studio Andiamo con un po' Di risposte No Ai messaggini Ricevuti Nel periodo estivo Che tra l'altro Non si sono fermati Nemmeno Per la replica Del giorno di ferragosto Quindi vuol dire Che l'interesse È No Ci fa piacere Che ci sia interesse Ci fa piacere Che ci sia Non fa piacere Che ci siano Tanti problemi Ecco Allora Vediamo di dare Alcune risposte Com'è possibile Che una vedova Debba restituire I soldi Della pensione sociale Che percepiva Prima della reversibilità Del marito Peraltro Invalida Al 100% E qui Si firma Clara Chi dà la risposta Alla signora Carlo Anche se sono due Gli argomenti Allora Bisognerebbe capire Lei dice Di essere invalida Sì Quindi bisognerebbe capire Se era invalida Già riconosciuta Prima dei 65 anni Oppure no La pensione sociale Comunque È soggetta A limiti di reddito Quindi Bisognerebbe capire Se l'Inps Si è accorto Che il limite di reddito Oggi come oggi È sugli 11.000 euro Annui Assieme al marito Redditi di entrambi i conici Quindi bisognerebbe capire Se lo ha Se superava Questo limite di reddito Se Assieme al marito Oppure no Perché Detta così È un po' strano Che la pensione Sì Che gli chiedono soldi Che gli chiedono soldi Di prima Di rimanere vedova Salvo appunto Che l'Inps Non conosceva A questo punto I redditi Del coniuge Del coniuge Oppure non era abbinato Dal punto di vista fiscale Il classico caso In cui è consigliabile Che vada al patronato Inas Anche per vedere La sua situazione Riguardo all'invalidità Perché se solo Sulla carta Perché qua mi dice Invalida al 100% Sì ma se è solo Sulla carta Se è invalida al 100% Vuol dire che ha Un riconoscimento Sicuramente Bisogna capire Quando è stata riconosciuta Prima o dopo I 65 anni Questo è Quindi signora Clara Se ci sta seguendo Adesso Le conviene appunto Rivolgersi Direttamente Al patronato Anche verificare Se in base Alle date Che gli abbiamo dato Adesso Può anche risolvere Il problema Da sola Da sola Sentiamo chi c'è In linea adesso Pronto con chi parliamo Buon pomeriggio Buonasera Buonasera Mi fa molto piacere Parlare con voi Perché Mi sembra Due settimane fa Ho sentito Qualcosa Che mi interessava Tramite il sindacato Io sono Con il sindacato Della CIS Di tantissimi anni E sono Una donna sola E vivo da sola E L'anno scorso Sono caduta E ho avuto Dei problemi Non differenti E ho sentito Che Il sindacato Ha detto Che In questi Casi Venite incontro Per le spese Per non so cosa Posso Contare Su questo Oppure Vabbè Su questo Signora Gli iscritti Pronto Sì sì La sentiamo Signora Tutti gli iscritti Alla CIS Hanno Una Assicurazione I fortuni Quindi Al di là Del tempo Che forse Un po' lontano In cui L'è successo L'infortunio Ma sarebbe Comunque Opportuno Con i documenti Che ha Rispetto a Quell'infortunio Lì Recarsi In uno Dei nostri Sportelli Della FNP O della CIS Io ho parlato Con Udine Però mi hanno detto Visto Sono il 300 Mi hanno detto Di andare Su alto Friuli No Che ti portare Tutta la documentazione Perché io Deve tener conto Che io Non sapevo Di questo Assolutamente Io per caso L'ho sentito Lì nelle vostre Trasmissioni Che io Seguo sempre E così Ho cercato Insomma Di telefonarvi Ecco però Adesso che lo sai È possibile Recuperare Il contributo Dipende anche Dall'invalidità Comunque Per le giornate Di ricovero Comunque Penso che Vengo in sede Dovuto Dovuto All'infortunio Sì Abbiamo una Diaria Diciamo Chiamiamola così Che si può Appunto E ma recuperare È pregresso? Ma Qualche Dipende Da quanto Tempo Da quando È successo Comunque Importante Che venga Io ho fatto 12 giorni Di ospedale Più RSA E ho fatto Un mese Quasi Quando? È l'anno scorso Il mese di È passato Un anno? È passato Un anno? Il gennaio Marzo Il gennaio Marzo So che È tardi Ma io Questo assolutamente Non lo sapevo Ho saputo Con queste Trasmissioni E provi a passare A venire A Gemona Con la cartella clinica Sì sì Ho tutto Ho tutto io Provi Vediamo se riusciamo In qualche maniera Magari E qui ricordiamo a tutti Che è un'iscrizione Alla CES Per anche L'assicurazione In fortuna Ah grazie Non solo Ma Per noi pensionati Abbiamo anche Una Si chiama Assicurazione Impropriamente Che è quello Contro i scippi I furti Nel caso Venga scippato O abbia Un furto in casa Velocemente Fino a un importo Non elevato Fino a 250-300 euro Riusciamo a rimborsare Le spese Ah ho capito Con la denuncia I carabinieri Sempre con solo la denuncia Però con solo la denuncia Ho avuto Ho avuto molti problemi dopo Perché vivendo anche da sola Ho speso una barca di soldi Insomma Per muovermi E tutto Per l'assistenza Per essere seguita Certo Perché Giancarlo Aspetta Gemona E risolve i problemi Io ho rotto le vertebre E portanto Non è stata una cosa veloce No Di vari giorni Capisce? Comunque lei si rivolga A tabacco Al signor Giancarlo Tabacco A Gemona Grazie Vedrà di risolverle In qualche modo Diciamo che Più che a me Alla nostra operatrice Che è molto in gamba Ecco Va bene signora Grazie per aver chiamato Auguri Auguri Buonasera Bene Continuiamo con i nostri Con i messaggi Avete finito con la risposta Al messaggio di prima? Sì Allora Con invalidità di IMS Allora Per 60% E da INA Il 16% Ho diritto D'avere la quattordicesima? No A parte Bisogna capire Anche che tipo di pensione ha Comunque Con il 60% Non c'è nessun beneficio In poche parole E neanche con il 16 Cos'è detto? Il 16 dell'INAIL? 16 dell'INAIL 16 dell'INAIL Dovrebbe avere Forse una rendita Ma comunque Che poi viene liquidata In capitale Dopo 10 anni Quindi Non 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 Dipende Dalla pensione Effettiva che ha Che non ha niente a che fare Con queste due cose Ma lei dice Magari Essendo invalida Magari Può avere qualcosa di più No Diciamo di no Solo Se lei ha una pensione Come dicevamo prima Inferiore alle 1000 euro Al mese Allora Ha diritto Se non l'ha avuta Già Deve fare La richiesta Comunicando naturalmente I redditi Andiamo avanti Con i messaggini Ancora Sì Allora Vorrei sapere Avendo una pensione Dall'estero Di 412 euro C'è una telefonata Allora Diamo priorità Non facciamo attendere Al telefono Poi continuiamo Con i messaggini Sentiamo chi c'è In linea Buon pomeriggio Buonasera Con chi parliamo Signora Io parlo Da Gorizia Da Gorizia Volevo chiedere No Ho 80 anni Farò presto 81 Auguri Questo Cannon Rice Se lo paga O non se lo paga Perché tutte le volte Che mi arriva La bolletta Del gas Della luce La conto su 20 euro E qualcosa Non so dove Vorrei rivolgermi Allora signora Per avere l'esenzione Al canone E anche eventualmente Il rimborso Bisogna avere Più di 75 anni E lei ne ha quasi E fin lì ci siamo 81 Poi però Bisogna avere un reddito Che non superi Gli 8 mila No no 5 mila C'ho la minima C'ho la minima Allora signora Lei faccia una cosa O se si sente in forma Va all'ufficio delle entrate E le danno il modulo E lo fa Oppure va In uno degli uffici Della CISL Dei pensionati E quelli le fanno Il modulo E la domanda Per l'esenzione Sono con l'INA Io Vado da l'INA Certe volte a parlare Con l'INA Ma l'INA Non trattano questo Chieda di parlare Con qualche pensionato Degli sportelli Lì di Gorizia Che le dà una mano A fare queste carte E che sportello a Gorizia Che sportello E dove sono i pensionati Della CISL Ma comunque dovrebbe essere Vicino all'INA Dovrebbe essere in zona lì Perché di solito L'INA È nella sede CISL Sempre nella sede CISL Lì chiede a qualcuno Che gli dà una mano A fare i moduli È semplice Vi ringrazio tanto Perché siete veramente bravi Signora Mille mille grazie Non ci faccia complimenti Non ci faccia complimenti Grazie a lei Ci montiamo la testa Se no Grazie Beh comunque di buon auspicio Abbiamo detto oggi Abbiamo ricominciato Di buon auspicio Per tutto l'anno Che dovremmo passare insieme Ogni mercoledì Andiamo avanti Arrivederci signora Grazie per aver chiamato Allora Messaggino Buonasera Vorrei sapere Avendo una pensione Dall'estero Di 412 euro Qui in Italia Mi danno Un assegno sociale Di 258 euro Ho 70 anni È giusta Questa miseria italiana Grazie Allora Messa così Mi piace perché Messa così Doniuti mi fa sempre il segno Risponde Tabacco No diciamo che Messa così Non vorrei dire Ma in teoria Come pensione sociale O segno sociale Allora L'assegno sociale In pratica Non avrebbe diritto Lei Pensione dall'estero 412 euro E l'assegno sociale Di 258 euro Quindi Poi dovrebbe capire Se dall'estero Di quale estero Ma comunque in generale La pensione estera Fa reddito Di conseguenza L'assegno sociale Non avrebbe diritto Di averlo Perché supera Tra l'altro L'importo Che percepisce Salvo Salvo Come dicevamo prima Che lei Abbia un riconoscimento Di inabilità Quindi il 100% Avuto Prima dei 65 anni Perché Messa così Secondo me Secondo me Secondo le regole Non avrebbe diritto Di avere Neanche l'assegno sociale Quindi La miseria italiana E resta sempre Un regalo Dopodiché Bisogna capire Logico che Penso con i mezzi Che ci sono oggi L'Inps Riesce A intercettare Dopodiché Magari C'è anche qualche Disguido Magari sul codice fiscale O sul nome Magari due nomi Piuttosto che uno Qua è registrato Con uno Là è registrato Con due Comunque Pensione estera Di 400 erotti Non avrebbe Diritto All'assegno sociale In Italia Per tutela Passare Impatronato A fare una verifica Sarebbe meglio Per tutela Onde evitare Dispiacere Più avanti Passare All'Inas E verificare La situazione Questo è quanto Per la signora Piccola pausa Ci ritroviamo Qui in studio Tra qualche istante Rimanete con noi Eccoci Nuovamente In studio Allora Ancora Messaggi Buonasera Volevo Capire Se anche nel settore Agricolo Si può andare in pensione Prima Visto che i contributi Sono stati pagati Già dall'età Di 16 anni E poi qui mi scrive Una data Primo gennaio 1976 Ho capito Ma l'età Come siamo? Se nel 76 Aveva 16 anni Quindi nel 60 Eh nel 60 Ok E nel 60 Evidentemente Quindi a questo punto Quanti anni Poveri di contributi? Del 76 A oggi Sono 42 Sono 42 Però l'età No Non c'entro l'età Sono 42 Mi piace perché Fai i calcoli In diretta Sì Dovrebbe Dovrebbe starci Sì Come precoce Sì E conviene Far la domanda E tra l'altro Subito Entro il 31 Dicembre 2018 Perché il 19 Non si sa Perché c'è Un perché Perché bisogna fare Infatti volevamo arrivare Anche a questa questione No? Perché nel 2018 Ci sono 21 modi Per andare In pensione Bello Ma nel 2019 Qua saranno Tutti i 21? Mi pare proprio di no No ci sono alcune Delle modalità Quelle legate All'ape Diciamo All'anticipo pensionistico Che sono in fase Sperimentale E se non vengono Prorogate Scadono Quindi Chi pensa Di avere requisiti Ed è interessato Conviene fare domanda Entro la fine del 2018 Ecco Poi le 23 Tipi 28 21 E' logico Parlavo così Anche sul Pur parlay Insomma Che mentre Una volta Bastava Dare I dati Anagrafici E vedere Quanti contributi Erano versati Avevi calcolato Anche la pensione Subito Diciamo così Se si poteva E quando Andare in pensione Oggi purtroppo Tra eccezioni Deroghe Particolarità Norme eccezionali Introdotte Dal 95 in poi Siamo arrivati Appunto Come dicevamo prima A 21 Modi Diciamo così I casi Per poter andare In pensione Almeno Per il 2018 Per andare in pensione Solo di Vecchiaia O Anzianità Anche se ormai La pensione di anzianità Non esiste più Comunque E' chiamata Diversamente Escludendo Appunto Escludendo Le pensioni Di invalidità Quindi 21 Modi Per poter andare In pensione Quindi ci sono La pensione di vecchiaia Con il sistema Contributivo La pensione di vecchiaia Con il sistema Retributivo La pensione di vecchiaia In regime Di totalizzazione Tra contributi Di vari enti La totalizzazione Con i paesi esteri E giù Insomma Via discorrendo Poi ci sono C'è la norma eccezionale Per le pensionate Per Le donne Diciamo così Nate nel 1952 Che sono state un po' Sa che annata è stata Il 52? Che sono state un po' Sul Ecco E poi naturalmente Quelli Cos'è questa cosa? No è una battuta Il 52 è stato l'anno Che era in bilico Per la legge Fornero Per la legge Fornero Ancora un'ulteriore salvaguardia Di esodati C'è ancora qualcuno C'è ancora qualcuno in sospesa C'è ancora qualcuno in sospesa C'è ancora qualcuno in sospesa Ecco ma io mi chiedo Anche quelli appunto Che sono esodati Con cosa stanno vivendo? In che modo? Io credo Hanno degli aiuti Io credo che Se non ci fosse stata La famiglia A sostenerli Nessuno ce l'avrebbe fatta E anche questa è una notazione Io non ho niente Da dire su niente Però È chiaro che ogni istituzione Deve assumersi le responsabilità E al dovere di Certo Però Confrontarsi con chi forse Conosce bene Per esperienza Per aver praticato le materie Non è mai un errore Quindi Mi rivolgo in particolare al governo Ragionare con il sindacato Che conosce questa materia In maniera dettagliata Può far evitare degli errori tipo questi Perché questo errore Gli esodati È stata una presunzione Di elementi eccellenti È stato un errore di presunzione Sicuramente dovevano Potremmo Ma i sindacati dove erano? Scusate Dovevano essere dati Perché i sindacati Non avevano potuto esprimere Non hanno potuto dire Non sono stati ascoltati Non sono stati No, neanche ascoltati Ma non è stata una sorpresa Anche per i sindacati Quella volta? Una sorpresa Sì Perché è stato fatto così È stata una cosa È stata presentata come Come Salva Italia Ah, appunto Quindi Forse un pochino Un pochino Guardando a Monti Un pochino di colpa Anche i sindacati Forse O no? Sicuramente Il sindacato Io faccio un po' di autocritica Doveva comunque dire qualcosa Almeno dire qualcosa Perché È impensabile Che insomma Che Una legge Una legge che è passata così Senza un'ora di sciopera Beh, allora Diciamo che la situazione Era talmente eccezionale Per cui Questa norma È stata votata da tutti Però si poteva anche dire Si potevano dire tante cose Se ti ricordi Abbiamo fatto molte riflessioni Su questo Però In fondo C'era questo ragionamento Siccome Tutti Risultavano impegnati A dare una mano Facciamo anche questa parte Tenendo presente Dei numeri Che si sono detti subiti Gli esodati Non sono 36.000 Non sono 60.000 È qualcosa di molto più elevato E quindi Avvertito il governo Qual è il problema? Il problema Che l'unica parte Del Salva Italia Che è stato attuato In maniera ferra È stato quello sulle pensioni Gli altri hanno detto Sì ci sto E poi se ne sono fregati E come sempre Io sono del parere Che qualcosa si doveva E si poteva dire Vabbè d'accordo Eh purtroppo Sette secondi Siamo in chiusura Quindi riprendiamo Abbiamo ancora dei messaggi Ai quali dare risposta E magari No Ultimiamo la prossima volta A grande richiesta Possiamo anche fermarci Ma non è Dobbiamo dare spazio al TG Bene Grazie a Giancarlo Tabacco Grazie a Ennio Tognuti Grazie alle persone Che ci hanno telefonato E anche a quelle Che ci hanno sopportato Operatori affezionati Che ci hanno seguiti anche Nel periodo estivo Ci vediamo La prossima settimana Mercoledì prossimo In diretta Alle 18.15 Arrivederci Arrivederci a tutti Buonasera Grazie a tutti In collaborazione con In collaborazione con Grazie a tutti 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 Grazie a tutti